La violenza nei confronti di chi si rifà la libera scelta sta raggiungendo livelli che non si vedevano da 83 anni in questa città. Questo è un momento storico, tutti siamo chiamati ad opporsi a questa situazione, la situazione in cui hanno iniziato a dividere le persone tra noi e loro. Questo è il momento di unirci per il diritto di esistere, per il diritto di scegliere sul destino del nostro corpo. Noi non permetteremo che la storia si ripeta. Questa piazza, come tante altre, sono la prova che la consapevolezza sta già facendo il suo lavoro. Il Green Pass è solo l'inizio di questa battaglia, è solo l'inizio della battaglia per i diritti civili, è solo l'inizio della battaglia per i diritti umani. Il primo e ultimo è portare giustizia sociale in questo Paese. Il Green Pass è solo l'inizio del cammino per eliminare quel divario tra Costituzione formale e materiale che si accompagna ormai dal 48, l'anno in cui è stata promulgata. E questo obiettivo lo raggiungeremo insieme. Insieme scenderemo in piazza, insieme lotteremo per i diritti, e insieme lo faremo fianco a fianco al suono di una sola parola. Libertà! Grazie. Alla prossima! Liberta!